scusate per gli spoiler ci saranno no ci sono impolverato incenerito ancora non bruciato ancora verso vivo ancora allora sollecitato e volontariamente sono stato io a guardarlo da un video interessante New York ha anche commentato optato per un prossimo racconto di cinema su da roma view per la recensione appunto un giusto appunto di New York New York da me rivisto in maniera oculata oculatamente approfonditamente già disaminato già allestita la recensione inviata compare su fin tv e nel mio sito è stata aggiustata la sottoscritto corretta più che altro da un paio di refusi che possono scappare per via della fretta la fretta cattiva consigliera ora se la memoria non mi inganna e non sono Guy Pearce di memento ecco rammento anzi ramendai me stesso ramendai sì sì ero slabbrato scucito no rammentai da rammentare rammemora e rimembrai ricordai questo film no che qualche anno fa comprai blu ray ma soprattutto che tempo anni or sono acquistai le VHS parliamo di due decadi fa forse oltre chissà non è stato ancora scartato lire c'erano le lire non erano lyrics con Walter realizzeremo una video recensione posso anticipare che canterò questa canzone alcun'altra da chansonnier diciassette e novecenti quando si suol dire quell'uomo non vale una lira ci sono gli euro adesso con gli euri dite voi che dovete essere educati dalla Montessori ricordate non mi sbagliavo mentre questa immagine non viene specificato di Bob da quale film tratta una foto di scena prima di mezzanotte potrebbe essere quello il look pare ora stamattina un discorso un po confusionario ma poi sarà tutto riallineato aggiustato riabilitato come me ora ho questo sorrisino un po beffardo da jimmy doyle no mi duele riconoscere davanti a mio specchio la verità perché in vero in verità in realtà vi dico io sono un uomo sincero e tendo a non tradire il prossimo e l'altro che vuole spesso fregarmi sfregiarmi circuirmi plagiarmi truffarmi ecco voglio truffarmi non truffarmi non voglio truffare me stesso il discorso pubblicato mattina per radio da quando qualche giorno fa ormai dieci giorni fa circa in una città di mare ecco saltò la sintonizzazione voi stanno saltando i cervelli no e chi è questo farottico un po rinnovato non è invalidato e la dimissione la dismissione e adesso la l'emissione della mia furbio allora daria bignardi che ha scritto un altro libro presentato alla fiera del libro per forza dovevo presentarlo è un libro ma ci sono dei buoni libri furono presentati dei buoni romanzi era una buona manza aveva un paio di cosce invasioni barbariche ecco non imbarbarite dovete tagliarvi anche la barba è chiaro e non essere barbosi noiosi quindi io non voglio essere palloso e raccontarvi balle voglio svuotare le palle no dicevo allora uomini allora passa in trasmissione adesso conduce un programma radiofonico superato questo cancro che la bilì che la debilitò e la vinse la vinghiò come qualcosa fra le sue gambe che veniva adirato no tirato stirato e poi asciugato lo dicevo stefano stefano non farò di massimi massimi ci ha parlato della paura è successa una tragedia a mo di elephant gas van sant bambini del texas domani fra l'altro a proposito di cose bambinesche che non lo sono sincretismo culturale una convergenza ecco di idee profusione mixate benissimo stranger things 4 vedrete questa nuova stagione ecco annotatevi anche questo dicevo questo qua ha strumentalizzato un po il discorso questa persona evidentemente soffriva di disturbi psichici ha compiuto uno sterminio ammazzato dell'innocente dei poveri bambini e la paura la paura una persona viene terrorizzata anche da se stesso e reagisce alle asperità le durezze forse di essere malato di purezza ecco no daria ti volevo raccontare trovate nel podcast di radio capita non dico cazzate non racconto balle nel fandonio allora quando hanno inaugurato inaugurarono mai passato remoto il ponte di brooklyn lì il fiume hudson persone corrotte copland di james muggles e salone ma non partiamoci in digressione in chiacchiere futili dobbiamo essere utili distruttivi e non distruttivi come questo qua che ha distrutto delle vite pena nate sul punto di nascere di evolvere di crescere ha ammazzato anche la sua vita ha trucidato la sua anima l'ha condannata all'inferno no 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 fanno questi trombone no che parla no no diciamo che no no e allora questo stefano massini inaugura il ponte di brooklyn dopo una settimana passava la gente a certo punto qualcuno comincia a urlare secondo me sta scricchiolando non è stabile questo punto e la paura si è diffusa e ci sono stati 12 morti lo sai daria daria ti do del tuo che ci conosciamo io io non sono uno che mi dà mi dai mi dà mi dai credito no che si dà che si dà qualcosa di utile no che si dà delle aria ma insomma se l'hai trovata se troppo un esco le trombe d'aria ehi dei capelli si scrive dice bei capelli non belli capelli vabbè una tragedia la morte del figlio di nicolò fabio i miei capelli adesso non è più così baldanzoso e euforico sta sublimando il lutto elaborandolo vabbè comunque detto questo e allora si è diffusa questa paura irrazionale tutti si erano convinti persuasi che il ponte stesse crollando quindi sono buttati giù dal ponte sono morti come i morti del titanic visto che sta affondando affogheremo o moriremo ecco perché le temperature scenderanno soprattutto sa lì la temperatura ormonale di leo di caprio con kate dalle belle pop e a prua sono il re del mondo e l'esaltazione diciamo il mio rapporto d'amore poi viene la passione dicevo uomini maestrini uomini di maestrale che volete me a maestrale io sono uno che sa scodinzolare scodinzolare mi è scolare lo sa scolare attenti allo scolo eh voi scolate la pasta e voi donne mangiate pasta e piselli no dicevo dobbiamo essere onesti la banda degli onesti arrangiatevi totò totò truffa vuole vendere la fontana di Trevi a un trevigiano o a Miriana Trevisano non lo so stava a Roma giravano la Rai no e nella dolce vita c'è Anita Ekber maestrini ma anche Adriano Adriano Soltaro eh c'è lui tra l'altro dovete sentire meglio quella famosa frase cioè le berri dice Marcial come here no no non dice così questa è stata la traduzione diciamo in originale cioè anzi provate a soffermarvi su quello che dice no Marcial come here non dice così no 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 se voi mettete a ralentì si sente uccello come here uccello come here dice uccello come here cioè vieni vieni qui qui lì poi già già è tutto abagnato con la Anita poi Marcello che faceva un po' il porcello con lì eh a proposito di popone di paponi e dei piponi non dovete fidarvi stammattina vengo contattato allora si scriva qui allora si guadagna la monetizzazione di youtube google adsense sebbene su youtube i cretini scrivano cazzate non passibili di denuncia beh ma è un far west quando mi è stata chiesta la recensione dell'uomo che uccise liberty balance la diga il vaiont allora ma si riceverà questo vaglia o no dobbiamo vagliare bene dobbiamo essere svegli allora questa qua lei figurisce figurisce verbo figurare vabbè una straniera che però è coordinatrice di un'azienda italiana ma i soldi arriverà sul conto bancario il codice IBAN su paypal versamento dopo adesso è a zero è a zero sarei completamente azzerato dopo prosciugato proprio nel conto no dice all'asciutto anni fa Hermesing scrivevo ricevette un certo compenso poi fallì fallì e fu in arretrato io di 500 euro un alto di 2000 euro ora c'è una sola maniera per essere persone integerrime corrette non fidatevi delle versioni ufficiali perché le versioni ufficiali devono rispecchiare il politically correct per una facciata sono sfacciato proprio dico la verità se l'ho scambiato a proposito di Leo Di Capo che è Twizlet per Michael Shannon di Revolution è un po' come Al Pacino di Scarface io non mento mai io non racconto balle io non sono un bugiarto io non mento mai io dico sempre la verità anche quando racconto le bugie no dicevo dobbiamo stare molto attenti allora scrive le recensioni c'è la partita IVA avere dei siti sono regolarmente depositati si paga il contributo ma si riceveranno i contributi? quali saranno i tuoi contributi? io voglio prima ricevere i contributi poi contribuirò se lei mi garantisce questo altrimenti non contribuiremo a niente chiaro? non arriveremo a NUCAZ quindi molte persone vorranno incularvi si vi sedurranno seduzione pericolosa attenzione attenzione poi seduzione pericolosa ispirò anche Basic Instinct tutti allettati affamati la fame dell'aver fama successo hai successo non sei più un cesso le donne o gli uomini dipende ti offriranno più sesso e sei sexy l'oro da un colore di beltanca la bruttezza sostiene il filosofo francese pensatore Nicolas tu sei bello tu sei bello nelle belle dell'odio l'odio di Casovitz io non sono vincente non sono neanche quel Vincent Castel ma posso aprirvi la mente e aprirvi le gambe è chiaro ma di mio che l'ho sparato questo filmettino no ecco domani doccia shampoo per un uomo ma era lui a Mendola c'era quella pubblicità di Pannolini del Coccolino dovete stare sul pazzo no sul pezzo essere concentrate è chiaro non fidatevi di chi gli disse beh allora se è successa questa cosa qua allora qui ci sarà il re di cittadinanza ma no no perché io posseggo molte doti sono molto dotato